La ASL Lanciano Vasto Chieti tornerà indietro sulla decisione di chiudere il reparto di geriatria dell'ospedale di Chieti utilizzando personale della medicina e consulenze specialistiche esterne al reparto per dare manforte fino al 15 settembre al pronto soccorso del policlinico in modo da coprire le ferie. Solamente in parte ovviamente, certo occorreranno delle soluzioni di tipo strutturale che dovranno vedere al futuro del nostro ospedale tornare indietro rispetto alla decisione di chiudere completamente il reparto di geriatria seppur per un mese è stata una vittoria da parte del Consiglio Comunale di Chieti e delle associazioni cittadine che si occupano e preoccupano della sanità nella nostra città. Inoltre c'è un progetto da 60 milioni di euro per l'ospedale di cui esiste una prima bozza progettuale che entro il 15 luglio sarà proposto alla giunta regionale perché possa finanziarlo e realizzarlo e quanto emerso dalla riunione del Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL presieduto dal sindaco del capoluogo teatino Diego Ferrara. Durante il Comitato Ristretto dei Sindaci veniamo a sapere quindi ad ORAS metodo, tra virgolette, metodo Shell che ti fa sapere le cose sempre al minuto contato sia questo dietro front sulla geriatria ma anche su un fantomatico progetto da 60 milioni di euro progetto in itinere, un progetto diciamo di massima quindi neanche portato alla regione in cui si dovrebbe cambiare i connotati all'ospedale policlinico con ben due parcheggi multipiano con nuove palazzine e quant'altro di cui molto probabilmente io me lo auguro per l'amore di Dio ma di cui molto probabilmente staremo forse a parlare nei prossimi vent'anni.